Possiamo iniziare la conferenza stampa. Iniziamo da Angelo Mangiante, Sky Sport. Eccoci, buongiorno a tutti. Andando sulla partita, la prima cosa è intanto la questione dei recuperi, come sta procedendo. A quest'anno sono tutti disponibili, a parte Abrama o forse Karlsson, questa è la domanda. E poi una cosa che mi interessava, considerando il sovraccarico delle ultime partite, ma anche il fatto che domani è la prima di tre partite in sette giorni, che tipo di gestione verrà fatta su Dybala, proprio per evitare eventuali sovraccarichi? Sì, allora, intanto buongiorno. Stanno tutti bene, a parte Rick Karlsson, che non verrà con noi, perché ha un fastidio al ginocchio. Ancora non sta benissimo, niente di grave, però comunque ha bisogno di una gestione un po' più lunga. E Abram, ovviamente, Tami. La gestione è molto semplice, quando hai tanti giocatori bravi, gestisci, metti la formazione che più pensi ti possa far vincere la partita, sapendo che se poi qualcuno sarà stanco puoi cambiarlo, sapendo che se qualcuno sarà stanco fra tre giorni, quattro giorni, puoi cambiarlo senza che il livello della squadra si abbassi. Quindi sono serenissimo, metteremo una squadra che ci permetterà di, che penso che ci possa permettere di vincere la partita. Di Bara sta bene. Non so quante volte abbia fatto 110 minuti e dopo tre giorni 90 minuti. Dobbiamo essere contenti della sua condizione. Penso che sia un discorso psicofisico, oltre che fisico. Si trova bene, è felice, ha fatto tre gol, quindi anche qualche piccolo acciacco quando fai tripletta sembra meno fastidioso. Ma come lui, come tutti gli altri giocatori, posso ritenermi soddisfatto della loro condizione e dei loro recuperi. Vespasiani, SRoma.com Buongiorno, buongiorno mister. Palladino De Rossi, giovani anche della Serie A, una striscia positiva molto simile, sia quella del Monza che quella della Roma. È un probabile ritorno al 3-4-2-1 di Palladino con la Salernitana che ha giocato in maniera un po' diversa. Come se ti aspetta? Beh, se mi avessi fatto questa domanda due o tre settimane fa, ti avrei detto ovviamente che giocavano 3-4-2-1. Negli ultimi partiti hanno cambiato qualcosina, hanno ottenuto dei risultati positivi, quindi un po' di dubbio ce l'abbiamo e come sempre capita in queste partite, in queste circostanze, devi preparare più di una partita, devi essere pronto ad affrontare una squadra che difenda 3, che imposti a 3, una squadra che attacchi a 3 o che crei il gioco a 4. Insomma, siamo pronti su tutto, ci prendiamo la doppia chance, ma sappiamo soprattutto che incontreremo una squadra forte, un allenatore che io stimo particolarmente, ci siamo sentiti anche qualche giorno fa. Abbiamo iniziato il corso UEFA Pro Insieme, a lui un po' prima, a me un po' dopo ci è scoppiata questa cosa in mano e per quanto riguarda lui sono contento perché è un ragazzo che se lo merita, oltre che secondo me è un ottimo allenatore, sono contento che sta gestendo questa occasione in maniera così brillante, il futuro è dalla sua secondo me e domani ovviamente proveremo a battere. Buongiorno, io volevo chiederti questo, con il ritorno di Sanchez che abbiamo visto con il Torino hai praticamente utilizzato tutti i giocatori a tua disposizione, manca solo il terzo portiere Boer, 24 su 25, se ci vogliamo mettere anche Belotti che è andato via, ha giocato anche lui. Ecco, e questo è il modo di gestire, di tenere tutti dentro il progetto, di coinvolgere un pochino tutti e so che non ti piace fare paragoni con il passato, però insomma fai anche tanti lavori molto a livello psicologico, tanti colloqui individuali. Si può dire che oggi forse la Roma è un po' più famiglia di ieri? Ma io non lo so com'era ieri, è meglio, posso aver sentito qualcosa, qualcuno mi ha raccontato qualcosa, ma non è il mio lavoro, insomma non cerco di fare qualcosa di diverso da quello che è stato nel passato, cerco di gestire come ho fatto nella mia prima esperienza alla SPAL, che magari però i risultati erano meno positivi e come poi bene o male non era molto diverso da come gestivo lo spogliatoio quando ero un capitano o quando ero un senatore, diciamo se possiamo così chiamarci, quando siamo dei vecchietti che cerchiamo di dare una mano ai più giovani, è ovvio che c'è una responsabilità diversa, c'è un ruolo diverso, ci sono delle scelte da fare diverse, quando sei capitano sei amico di tutti e quando sei allenatore sei amico ma poi 11, 12, 13 in panchina ce li mandi ogni domenica, quindi sai che qualcuno con gli occhi un po' storti ti guarda, però hai detto famiglia, se non lo siamo stiamo andando nella direzione di diventarlo ed è quello che per me dà una grande mano anche ai risultati sportivi di una squadra, è quella la maniera di vivere lo spogliatoio, la squadra, la propria professionalità se si sta bene si viene magari si sta un'ora in più per fare una postura in più o una terapia in più e non si scappa subito a casa, sono stato un calciatore, so che significa secondo me i calciatori devono essere felici di venire al campo e di fare tanta fatica, di andare tanto forte, di allenarsi, cioè felici di venire a fare un lavoro che fisicamente e mentalmente deve essere perfetto, non felici di venire a giocare, è uno scambio alla pari quasi, noi siamo tutti contenti di venire al campo ma stiamo qui dalle 7 e un quarto fino ieri sera alle 5 e mezza, l'altra sera alle 8 meno 20 e quello, quindi è faticoso stare davanti al computer così tutto il giorno, seduto, è faticoso però stiamo bene e loro devono sapere che staranno bene, avranno un allenatore, uno staff, ma come hai detto tu, un familiare, degli amici, ma devono venire a fare il lavoro loro, se no ovviamente il nostro atteggiamento purtroppo per forza cosa dovrebbe cambiare. Maida, il Corriere dello Sport. Buongiorno, io vorrei andare sulle due stelle della squadra, se così possiamo chiamarle, Didi Bala ha parlato già a Mangiante e volevo chiedere una curiosità, il fatto che abbia fatto una tripletta giocando alla vecchia maniera, cioè nel 3-5-2, dove magari è un po' più libero di esprimersi o forse non lo so se è quella la strada, è stata solo una casualità, nel senso che anche col vecchio modulo che avete utilizzato stava andando in quella direzione, c'è un fatto magari di condizione di forma, questa è la prima cosa, invece su Lukaku durante questa gestione per la prima volta è stato messo in discussione o comunque non ha avuto il posto fisso, perché è stato escluso per scelta tecnica, non è stato sostituito, però è entrato molto bene, quindi volevo sapere a che punto era la sua condizione, grazie. Quanto riguarda la posizione in campo, riguardo a uno schema, per me ha fatto un go su rigore, ha fatto un go da 30 metri e un altro inserimento dei suoi, 1-2, ha tirato in porta, non c'è nulla di tattico che non gli permette di fare queste cose quando giochiamo a 4 e non c'è niente di 3-3 che lo esalti, io penso che in passato abbia giocato tanto spesso a 4 e abbia fatto grandi cose, forse anche alla Juve, non mi ricordo adesso esattamente no, forse giochiamo a 3 con Allegri, ma per me insomma se analizziamo i gol, se analizziamo i gol, analizziamo tutte le situazioni che possono succedere anche se giocassimo 5-5-0, insomma è solamente una casualità il cambio modulo, almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda lui, perché lo vedo molto sereno. Per quanto riguarda Romelu, messo in discussione, non so che intendi, tutti sono messi in discussione, Di Bala, Idem, tutti quanti, io per primo, ma io faccio le scelte quotidiane, anzi ogni 3-4 giorni riguardo a chi deve andare in campo, a volte delle scelte sono in funzione del rendimento, a volte sono scelte in funzione del fatto che, non so, Lukaku ha giocato 100 partite a 90 minuti, quindi uno può fare anche un tipo di gestione di quel punto di vista, sotto quel punto di vista, a Frosignone l'ho levato perché non stava giocando benissimo a primo tempo, cioè tutto molto normale, la sua condizione è quella di un giocatore, una stella, come dici tu, che entra, corre come un matto, si butta in profondità, fa spallate con tutti, fa un assist, cioè condizione migliore per un giocatore non esiste, il giocatore che gioca tutte le partite è logico e contento, il giocatore magari una volta lo levi, una volta dopo sta in panchina, entra e si comporta, come si comporterebbe un ragazzino alla prima presenza, è il giocatore perfetto per qualsiasi allenatore, lo vedo se... Era una cosa sorprendente, che era proprio entrato... Ma non è sorprendente, è il lavoro suo, che deve fare, cioè io... È sorprendente se uno entra e fa il fenomeno e non corre, c'è il muso e... Ma ne ha visti tanti anche da giocatori, giuro. In questo spogliatore io non ne vedo tanti, anzi non ne vedo nessuno, da giocatore era forse una delle cose che mi dava più fastidio, puoi essere un po' innervosito, arrabbiato con l'allenatore, anche adesso c'è qualcuno che è meno felice, io lo accetto, è il mio ruolo, però quando entri poi in campo, l'allenamento devi andare forte, e in partita devi andare ancora più forte. Questi sono patichieri, amicizia lunga, ma non sono le mie regole, penso, qualsiasi allenatore e da questo punto di vista Romelu è il giocatore perfetto. Grazie. Grazie. Juric, Repubblica. Salve mister, buongiorno. A me sembra che lei abbia giustamente forse creato una bolla sportiva, no? Lei la squadra, i risultati in campo, le partite, però mi sembra che attorno a lei ci siano diciamo dei lavori in corso, tra persone mandate a casa, un direttore sportivo che manca da un mese, quindi le volevo chiedere se lei che vive questo ambiente da oltre vent'anni sente e percepisce quest'area di smobilitazione, se qualcuno gliene ha parlato. Grazie. No, non la percepisco, noi siamo bravi, noi ed è brava la società a metterci a disposizione tutta la serenità di cui stiamo godendo, i risultati ci danno una mano, diciamo che noi siamo un'ala un po' a se stante anche proprio fisicamente da quello che succede sopra e sotto, se vai ai centri sportivi del Manchester City, di queste grandi squadre, la prima squadra non si accorge neanche se scoppia una bomba negli uffici perché stanno proprio da un'altra parte e le grandi squadre riescono e tendono a mettere la prima squadra in una situazione, non una bolla perché non è che siamo su un altro pianeta, però una situazione ideale per concentrarsi sul lavoro ed è quello che sto facendo io, non è che sono insensibile a quello che può succedere, ma io mi devo interfacciare con la mia società per quello che riguarda il mio ruolo e la mia società, Lina, Maurizio, quelli che ci sono adesso sono a 360 gradi e 24 ore al giorno a disposizione mia in tutto e per tutto, se alzo il telefono e chiamo Ryan e Presidente Dan, idem, fuso orario permettendo, sono sempre lì a disposizione quindi io non posso lamentarmi di nulla, so che ci sono dei cambiamenti come in tante società, come ce ne saranno in futuro, visto che alcuni ruoli sono scoperti, però non posso fare altro che concentrarmi sul lavoro perché, come dici tu, forse abbiamo creato anche grazie ai risultati, si riesce a stare in una situazione migliore, diciamo emotiva, per il resto non è il mio compito, non è il mio campo, non ho potere, non ho voce in capitolo, quindi concentrarmi sul calcio è la cosa migliore che posso fare. Detto ciò, a me l'atmosfera mi sembra veramente positiva, io non so bene quello che stia succedendo, non penso che ci stia succedendo tante cose diverse da quelle che succedono in tanti altri club. Grazie. Grazie. Carina, il messaggero. Buongiorno a tutti. Io volevo chiedere sulla gestione di Smalling, perché chiaramente il cacciatore può giocare con qualsiasi modo, lo dice la carriera, lo dice il valore proprio dello stesso, però lei nelle prime due volte che lo ha impiegato ha preferito inserirlo in un sistema a tre e l'ultima volta ha detto perché mi sentivo più tranquillo. Chiaramente parliamo di un giocatore che non giocava da 170 giorni, allora volevo chiederle questa fase di rodaggio. È completata e quindi la prossima volta che lei impiegherà Smalling lo può impiegare tranquillamente a quattro oppure serve ancora qualcosina? Grazie. Prego. Si sta finendo questa fase, ma magari è solo una premura esagerata mia, magari se l'avessi messo a quattro l'avrebbe fatto ancora meglio, magari non lo sappiamo. È solo che quando non giochi da tanto tempo il ginocchio va bene, ti senti bene e magari i muscoli non sono più abituati a certi scatti o a certe distanze, a certe aree da coprire di campo, certe scalate. In allenamento ti alleni, vai forte, ma comunque è diverso. Lo stress proprio fisico della partita, dello sprint da gara, del contatto con l'avversario può essere diverso. Quindi l'idea mia era di mettergli due cani da guardia ai lati per limitare il suo raggio d'azione, non perché lui non potesse fare, perché poi se noi lo mandiamo in campo è perché tutto lo staff ha lavorato, gli hanno fatto fare distanze piccole, distanze lunghe, i scatti 100%, 70%. Si lavora veramente di equip e io sono l'ultimo tassello. Questa mia scelta è stata per metterlo un pochino più comodo, ma sta finendo questa roba qui. Il discorso di Frosinone è stato giusto per metterlo dentro, per non farlo esordire subito a freddo, a secco, 90 minuti da titolare, la prima partita disponibile magari per dargli un po' di antipasto di calcio, visto che dopo nove mesi sembra come se non ha mai giocato a pallone. Quando noi ci succedeva, quando tornavamo dalla vacanza, andavamo in ritiro, prima ora e mezza non riuscì neanche a palleggiare. Mi immagino che per lui un po' di emozione, un po' di felicità, un po' di fatica diversa rispetto a quelle proprie di allenamento, ho cercato di proteggerlo, ma lui assolutamente in futuro sarà un giocatore molto importante per noi, a prescindere dallo schieramento. Buongiorno, volevo chiedere di Paredes, intanto se giocherà domani, da quando è arrivato è più al centro ancora, diciamo lui ha sempre giocato anche nella gestione precedente parecchie partite. Lei ha detto che doveva migliorare nella fase di non possesso, in posizionamento in mezzo al campo, un po' quello che era bravissimo a fare lei a qualche punto, secondo lei è arrivato, come lo vede? Paredes sta migliorando quelli che sono gli aspetti che gli chiedo io di migliorare, non perdiamo neanche tempo a parlare della gestione palla, anche se pure lì ci sono delle cose un po' diverse che gli sto chiedendo rispetto a quello che era diventata la sua abitudine, insomma un po' più dritto per dritto, un po' più verticale, un po' più veloce e lui lo sta facendo, lo sta capendo, lo sta facendo diventare una cosa sua perché calcisticamente è intelligentissimo, è intelligente anche senza palla, però a volte era un pochino, posso dire, istintivo e il centrocampista deve essere sempre riflessivo, il centrocampista forte, recupera qualche palla in meno ma permette ai suoi compagni intorno di recuperare palla, io ho tanti compagni che prendevano dei bei voti in pagella perché facevano dieci scivolate a partita e magari recuperavano quattro palloni e io magari ne facevo una e le altre nove volte temporeggiavo, temporeggiavo a tal punto che la palla la recuperava un compagno mio, il centrocampista deve fare le cose visibili ma anche tante cose invisibili, il centrocampista come il difensore secondo me, quindi è bello quello grintoso che entra, energico, che ruba palla come mi è successo, come ero io anche da giocatore ma c'è un centrocampista che fa solo quello è pericoloso, c'è una pista che esce sempre è pericoloso, c'è una pista che entra sempre è pericoloso, temporeggiare in questo sport è troppo importante, quindi lui lo sta capendo, lo sta facendo alla grande e poi c'ha il calcio in testa, lui sa dove posizionarsi, sa dove va a finire la palla, sa il rimbalzo, ha queste furbate nell'uno contro uno da argentino puro, insomma mi piace come sta interpretando il ruolo, poi insomma non è che gli chiedo cose totalmente diverse, sono giusto delle sfumature che chiedo un po' tutti quanti nei vari ruoli ma nei centrocampisti centrali mi permetto di dargli qualche consiglio in più. Grazie. L'omonaco e il romanista. Ciao mister. Ciao. Nella preparazione della partita hai detto giustamente che dovrai preparare due squadre pensando a due formazioni avversarie diverse, no? Mi chiedevo se l'altro giorno hai detto che hai tre giocatori a destra per il ruolo di esterno destro ed è giusto, adesso saranno due per Monza ma insomma cambia poco, però è vero pure che hai cinque centrali per due ruoli e di questi cinque almeno quattro si sentono tutti i potenziali titolari, no? Quindi anche lì diventa complicato. No, no, di questi cinque tutti e cinque si sentono potenziali titolari, ti assicuro. Però uno è un po' più giovane, diciamo, può aspettare ancora un po' a volte. No, mi chiedevo se in queste rotazioni, visto che ce l'hai fatto vedere anche l'ultima partita, insomma con Mancini ha giocato molto spesso l'arco a destra e si infilava spesso davanti, se è una opzione anche quella, cioè quella di immaginare una Roma con due centrali più Mancini che possa fare il famoso tre e mezzo degli spalletti che tu conosci bene. Sì, perché no? Potrebbe, anche perché lui, vale lo stesso discorso di Paredes, lui è uno che c'è in testa, che capisce quello che deve fare in fase difensiva, capisce quando deve spingere. È uno di quelli, da quando ho smesso io, che ha giocato centromampista centrale, che più mi ha riempito vedendolo giocare, perché con Fonseca ha fatto delle partite da centromampista secondo me eccezionali. Sa fare un po' tutto e lo fa bene e io sono contentissimo di lui. È ovvio che deve essere un più un discorso tattico che un discorso di scelta primaria, perché noi abbiamo tre tersini destri molto forti, secondo me anche Angelino può giocare a destra, ovviamente con manzioni diverse e con attitudine ad accentrarsi un po' diversa rispetto a un classico tersino, però Mancio può fare questo, può fare altro. Diciamo che quando c'è un tersino così, che è più un centrale che un tersino, magari l'ideale sarebbe avere un giocatore davanti a lui che stia con i piedi sulla linea e che sia bravo a fare l'ala pura e noi lì in quella posizione abbiamo Tommaso, Baldanzi, abbiamo Paolo, Di Bala che sono più dei tre quartisti, quindi uno che gli dà un po' di sbocco sulla fascia magari è sempre meglio. Dall'altra parte invece che abbiamo Stefan potremmo pure pensare di avere un centrale prestato alla fascia sinistra, però insomma queste sono tutte soluzioni che poi andiamo a scegliere partita in partita, insomma l'allenatore migliore al mondo fa le finali di Champions League con i centrali sulla fascia, insomma Guardiola ha giocato tante partite con dei centrali di ruolo giocati tersino, quindi perché no, è una soluzione che noi prendiamo in considerazione in base alla strategia di gara, ecco, non perché non ci fidiamo, non abbiamo tersini bravi, tersini bravi ce li abbiamo in abbondanza. Facciamo l'ultima, De Bartolo. Buongiorno mister, grazie. Si parla molto della tripletta di Paolo Di Bala, ma lei in otto giornate è già la sua seconda tripletta in carriera con tre vittorie di fila, perciò intanto complimenti. Se è vero che dopo 120 minuti con il Feyenoord il Torino era una brutta squadra da affrontare ovviamente, penso lo stesso per il Monza, soprattutto dopo Torino e dopo Feyenoord, una squadra che ha saputo mettere in difficoltà un po' tutti e che spinge tanto sulle fasce. Noi soffriamo dei cross avversari, infatti prendiamo molti gol, diversi gol, insomma, sotto questo aspetto tramite cross. Come comportarsi con un Monza che ha moltissima gamba? Sì, è una squadra difficile da affrontare, grazie a te, è una squadra difficile da affrontare in qualsiasi circostanza, perché è una squadra che ha messo in difficoltà, ricordo aver visto anche la partita d'andata, che la Roma vinse all'ultimo, in dieci il Monza, fece una grande partita, è una squadra che ha battuto il Milan da poco, è una squadra che fa male anche alle grandi squadre, sanno giocare a calcio, sono secondo me meno aggressivi del Torino, dell'Atalanta, vengono dallo stesso albero genealogico, ma non è più quell'aggressione uomo a uomo che ci aspettavamo col Torino, magari lo faranno contro di noi perché magari ci hanno visto soffrire un po' al primo tempo col Torino, queste sono ipotesi che noi ci stiamo immaginando. Per quanto riguarda i cross, è importante la marcatura sui cross in area, è tanto importante la gestione del cross, secondo me quel cross poteva essere gestito meglio prima che partisse, parlo di quello del gol di Zapata perché in area la squadra ha marcato bene. L'ha detto anche Giuric, l'allenatore che ha avuto degli eventi. Diciamo che il giocatore che salta così in alto, fa gol, frusta la palla sul palo e poi va in porta, ci fa sembrare che abbiamo sbagliato in area, ma secondo me ogni tanto gli vanno fatti i complimenti agli avversari, come gli avversari gli hanno fatti i complimenti a Paolo che ha segnato a 30 metri e magari un sostegno maggiore ad Angelino quando è andato in supporto di Beranova, visto che abbiamo preparato la partita anche su questo, il fatto che Beranova ha una gamba diversa da Angelino e che potevamo aiutarlo raddoppio, poteva aiutarci a metterci meglio e non far partire il cross, però poi dopo i cross li subiremo, sia contro Torino che contro il mondo, i cross si subiscono al calcio. Grazie mister. Grazie. Ciao.